segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te caro studente io non so che tu sia ma ho deciso di iscriverti questa lettera non mi interessa se sei uno studente di un liceo di un istituto tecnico delle scuole medie non fa alcuna differenza spero che tu trovi un attimo di tempo per ascoltare la lettera che uno scrittore ti invia allora immaginati cento anni fa una scuola però siccome ti ho detto cento anni fa ti prego non immaginartela in bianco e nero immaginatela come era a colori certo si era una scuola diversa dalla tua non c'erano i social non c'erano le lavagne interattive però per molte altre cose era uguale identica sai c'erano le ore di ricreazione c'erano le ore di divertimento c'erano c'erano i cappotti appesi c'erano i compiti in classe ebbene in quella scuola era il liceo ariosto di ferrara era arrivato un nuovo preside un nuovo preside che era molto preoccupato era preoccupato perché fuori per strada erano continuamente pestaggi botte calci pugni e tutti quanti intorno minimizzavano dicevano che non c'era alcun problema ma sì sono ragazzi non c'è alcun problema non c'è niente di cui preoccuparsi a ferrara in quegli anni per l'esattezza la città era nelle mani di un ragazzo poco più che un ragazzo era uno squadrista uno prof un professionista dei pestaggi si chiamava italo balbo è passato alla storia perché quando il prefetto a ferrara vietò l'uso del manganello balbo si inventò lo stoccafisso lo stoccafisso era un pesce essiccato molto duro sembrava un bastone che loro usavano per picchiare i ragazzi come te e tutti quanti dicevano va bene ma che ci sarà mai da preoccuparsi ma che sarà mai sono ragazzi sono ragazzi non c'è alcun problema l'unico a preoccuparsi era il preside il preside emilio teglio che invece si preoccupava e come se si preoccupava e a roma cominciarono a domandarsi chi diamine fosse questo preside che era così tiepido nei confronti del regime chi diamine era questo preside che usava tenere a insegnare a scuola degli insegnanti antifascisti come il professor francesco viviani che era un bravissimo insegnante lui lo teneva nonostante passavano intanto gli anni matteotti veniva ucciso e tutti ancora dicevano non c'è problema anzi il fascismo sta morendo il fascismo se ne sta andando perfino salvemini lo diceva ma il preside emilio teglio era molto preoccupato ancora era molto preoccupato forse perché aveva un figlio un figlio che frequentava la scuola esattamente come oggi la frequenti tu là nello stesso liceo che veniva diretto da suo padre ed era un ragazzo come dire il campione della scuola uno che non stava molto alle regole il figlio del preside e che tutti quanti conoscevano lo sai no che in ogni scuola c'è un po il campione che non sta alla regola ebbene intanto gli anni passavano ancora si passavano e le persone continuavano a minimizzare fino a quando accadde che tutto quanto precipitò arrivarono le leggi razziali e con le leggi razziali il preside emilio teglio che era ebreo fu costretto lui e il preside dell'altro liceo importante di ferrara lo scientifico furono costretti ad abbandonare perché erano ebrei e con loro 24 allievi di quel liceo pensa 24 sono come dire una classe intera che dovettero smettere di andare a scuola dovettero smettere di fare ogni attività fra loro c'era anche giorgio bassani e di quei ragazzi non uno ma molti finirono uccisi ad auschwitz a matthausen e anche anche il nonno di una persona che conosco molto bene era fra quei 24 ed è finito bruciato vivo ad auschwitz perché ci sono un sacco di chiacchiere e poi ci sono i morti quelli veri il preside emilio teglio rimase là a casa ma suo figlio quel campione di cui ti parlavo fu fucilato dai fascisti contro un muro di ferrara pochi anni dopo ecco questa lettera è finita ma un'ultima cosa ti vorrei dire che che il fascismo è questo sai il fascismo è una cosa subdola silenziosa schifosa in quanto che graduale invisibile che non vedi non senti e Kurt Cobain che era il grande il grande leader dei nirvana diceva una cosa diceva accidenti com'è che le cose più importanti nella vita sono quelle che ho perso senza rendermi conto che le stavo perdendo e quando mi sono reso conto di non averle più mi sono reso conto di quanto erano importanti ecco caro studente sappi che la libertà la libertà di opinione di pensiero è esattamente una di quelle cose che ti trovi un giorno senza averla più e a quel punto ti maledici perché non te ne eri reso conto